Con la rimodulazione del piano di riequilibrio del Comune di Napoli io penso che concludiamo, mettiamo un tassello importante a questo anno che è stato un anno che ha visto una ripresa del lavoro sul bilancio molto importante da parte dell'amministrazione di Napoli. Abbiamo avuto a fine novembre una sentenza della Corte che ha sospeso l'efficacia della precedente formulazione della Corte dei Conti per cui è stato uno slancio che abbiamo avuto e prima la riformulazione del piano di alienazione degli immobili e la successiva rimodulazione del piano di riequilibrio dove sono contenute molti importanti tasselli perché essenzialmente la rimodulazione del piano di riequilibrio si fonda su uno slancio dell'attività di riscossione messa in campo da parte del Comune con un aumento delle entrate relative ai tributi locali. è stata parimenti ridotta l'alienazione degli immobili ed è stata iniziata la dismissione degli immobili finalmente iniziamo a dismettere gli immobili ci sono 4 milioni di immobili già venduti per cui è stata fatta un'azione molto importante per un'azione complicata, quella della dismissione considerando quello che abbiamo ereditato dalla gestione Romeo e quindi è stata iniziata questa alienazione che era il punto dolente insieme alla riscossione dell'amministrazione. Le aspettative che ci sono in questa manovra da parte dell'amministrazione sono molto alte sappiamo che fisicamente attualmente i nostri uffici hanno delle criticità quindi su alcuni punti sui quali ovviamente sono presenti sui quali facciamo affidamento qual è la riscossione e anche la vendita del patrimonio sicuramente saremo chiamati da qui ai prossimi giorni ad impegnarci per andare a verificare tutte quelle difficoltà che fisicamente ci sono negli uffici per garantire l'effettiva realizzazione di questi punti ovvero non è scontato che l'essere lì presenti possano essere già di per sé realizzati abbiamo una realtà in città che va affrontata ci sono delle difficoltà che secondo me non vanno dimenticate e vanno analizzate al di là di quello che è presente sulla carta anche nella realtà.